Ultimo allenamento prima del ritorno a casa per Fabiano Parisi, lo stage della nazionale direttora d'Oberto Mancini è cominciato ieri e congederà oggi il primo gruppo di cui fa parte anche il pendolino di Serino. Un'occasione straordinaria per mettersi in mostra nell'ambito della nazionale maggiore, nonostante durante il campionato Parisi si sia già messo in luce in maniera evidente. Non sono passate inosservate le sue prestazioni con la maglia dell'Empoli, non a caso infatti intorno al suo futuro stanno girando voci che somigliano tanto a delle certezze. La prima arriva da Napoli dove pare si cerchi un terzino Mancino, la descrizione di Parisi sarebbe adattissima al profilo, ma non solo, anche a Milano, Sponda e Inter ci sarebbero gli occhi aperti sul talento irpino. Parisi intanto non dimentica le sue radici, proprio prima di partire alla volta di Coverciano è tornato nella sua Serino per riabbracciare la mamma, Anna e i fratelli e respirare l'aria di casa e ringraziare i suoi primi sostenitori. A breve ci tornerà per un evento al quale tiene particolarmente. Il 16 giugno ci sarà il primo Memorial dedicato alla memoria del papà indimenticato Charles. Sarà proprio Fabiano a dare il calcio d'inizio alla partita e ricordo di chi, per primo, ha creduto nel suo talento e nelle sue capacità. Grazie.